Dai creatori di MOB BASTA Avrebbe potuto cambiare il mondo Avrebbe potuto risollevare le sorti dell'umana stirpe Avrebbe potuto risanare il debito pubblico Avrebbe potuto sconfiggere la criminalità Ma anche no Ma anche no Un altro film del maestro Bruno Liegi Bastoglie Ce l'avrò anche io i miei problemi no? Grazie